Bentornati a S.S.A.Ghezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio. Quest'oggi siamo a Palazzo del Piero, eravamo stati qui tanto tempo fa ormai per la situazione della palestra quando era chiusa, invece torniamo... Abbiamo anche delle famose case popolari. Ah è vero, le case popolari che poi sono state finalmente inaugurate. Insieme a Daniele che è il genitore di un bambino, cosa è successo a questo bambino? Niente, domenica mio figlio è sceso qua nel parchetto insieme a me, mia moglie e mia mamma per giocare con i suoi amichetti, il parchetto era pieno e domenica era una bella giornata e la sera quando siamo rientrati in casa e siamo andati a metterlo a letto ci siamo accorti che aveva una zecca in una coscia vicino all'inguine, quindi diciamo un po' di spavento, lo abbiamo portato subito al pronto soccorso per far rimuovere la zecca e niente, tutto bene, l'hanno rimossa, però adesso c'è come da protocollo ministeriale 30-40 giorni di tempo di attesa sperando che non si sviluppi febbre o qualsiasi altra cosa e quindi che non nasca un problema maggiore a quello già avvenuto. Tutto questo, la causa di questo problema è una cosa conosciuta noi abitanti di Palazzo del Pero che abbiamo più volte fatto presente al comune perché questo parchettino dove siamo adesso tutto l'inverno è stato pascolo dei cinghiali, qui come potete vedere ci sono buche, c'è stata veramente distruzione da parte di questi animali e questi animali sono veicolo e veicolano le zecche, quindi è un problema sanitario abbastanza importante e rilevante, soprattutto perché siamo a 20 metri dall'ingresso della scuola e a 3 metri dall'ingresso delle abitazioni, io abito qui dietro e quindi mi ritrovo potenzialmente con dei parassiti a 2 metri dal portone di casa. Ecco, come regalo, oggi l'erba è stata subito tagliata ma dopo che è venuta fuori la notizia, ma com'era questo giardinetto 24 ore fa? Questo giardinetto fino a stamani mattina alle ore 8 circa era con circa 40 cm di erba, c'erano 40 cm di erba e tenuto malissimo con le buche a vista, adesso le notate un pochino meno perché c'è l'erba tagliata e lasciata in loco, cioè non tagliano e non portano neanche via tutta questa erbaccia che rischia di finire mezza le strade o le abitazioni, quindi sì, era al limite dell'agibilità, però come si fa a un bambino a negargli di venire a giocare al parco la prima giornata di sole che c'è da 6 mesi, quindi era tenuto male, era tenuto molto molto male, è fatiscente come potete vedere il parchettino qui accanto, sempre comunale e sempre adibito a area di svago. Perché l'erba l'hanno tagliata fino qui davanti, poi sono fermati? L'hanno tagliata fino lì, fino a 10 metri, l'hanno tagliata nello spartitraffico dietro alle nostre abitazioni, un altro piccolo parchettino dove c'è un capannino, dove sostano delle persone d'estate e poi da lì, dall'angolo, di nuovo lasciato in abbandono, lasciato completamente in abbandono, quindi penso di aver risolto la situazione qui, ma lì è totale abbandono, come se noi fossimo dei ciechi che non vediamo queste cose. Come voi dite giustamente, se la zecca l'avesse presa nel bosco non avremmo detto niente, è inammissibile però che accada in un giardinetto pubblico? Assolutamente, io sono nato a Palazzo del Pero, la mia famiglia di Palazzo del Pero, i miei nonni tutti siamo di Palazzo del Pero, noi siamo abituati a convivere sia con questi animali che con i cinghiali, per carità. Se mio figlio veniva con me al bosco, tornava a casa con una zecca, io l'avrei portata a pronto soccorso, ma per me la cosa poi sarebbe finita lì. Il fatto che mio figlio esca di casa tre ore sul giardinetto comunale, dove ci sono le altalene scivoli, mi torna in casa con una zecca, io trovo una cosa inammissibile, non è giusto, questo è spazio comunale, il comune lo deve tenere pulito, ordinato e decoroso, e soprattutto deve evitare i rischi, se c'è un rischio sanitario lo deve togliere, lo deve evitare, non si può continuare così, il Palazzo del Pero è lasciato l'abbandono su queste cose ormai da anni. Ma che ti causa al comune? Io ho già fatto la denuncia stamani, chiaramente mi considero parte civile, vedremo quello che viene fuori dalla situazione di mio figlio, augurandoci che non sia ammali, però non la chiudo così, non è che vado a cercare soldi, non mi interessa quello, è solo che non deve ripresentarsi la salute dei cittadini avanti a tutto, soprattutto la salute dei bambini. Beppe Marconi che è stato vicesindaco ormai dieci anni fa, ci bazzicava al Palazzo del Pero spesso la sera. L'avete mai visto? Se l'avete mai visto dillo pure, darsi che non l'hai mai visto. Io venivo di notte in circoscrizione quando c'era la Lucia, molto spesso si riceveva il pubblico sempre lì nella sede vicina ai Carabinieri. Che si dice di questa cosa? Io non sono d'accordo col Signore, io sono d'accordo col Signore che il Comune d'Arezzo deve provvedere a fare fuori la manutenzione e fare la pulizia dei cerdini e mantenerli così come si deve. Se i cerdini ci sono, devono essere mantenuti e non lasciate l'abbandono costantemente. Però non sono d'accordo sulla zecca, perché io ti dico personalmente, c'è un prato a casa che tengo e costruisco da me solo e la zecca ce l'ho presa uguale. Quindi purtroppo gli animali, è vero che i rischi aumentano, sono maggiori, perché soprattutto i cinghiali sono portatori anche di questi parassiti. Però è un problema che può capitare sempre. Però il Comune deve far sì che questo avvenga almeno possibile, quindi di conseguenza mantenga quello che... Mette con una protezione anche, no? Esatto. Questi cinghiali. Esatto. La protezione è difficile, perché i cinghiali poi scavano sotto e li buttano in vallara e tutto. E qui la protezione è l'unica, quella che ha detto lui, eliminarli a maggior parte, che poi stanno diventando e hanno un costo per la comunità abbastanza importante. Tu sai benissimo che ce li troviamo anche in città ora, perché i calzonetti del sud c'è in città. Visto che hanno messo i rupi, ora sono scappati, li mangiano i cinghialini e vengono in città. Quindi te li trovi... No, te stai a tuore. È normale, te è normale che tu ce l'acqua. No, li trovo anch'io. Eh no, logico, stai in campagna, giusto. Però in città è un po' più raro che ci fossero cinghiali. Oggi purtroppo ci sono. Quindi, di conseguenza, cosa dobbiamo dire? È il verde pubblico che faccia quello che deve fare. È vero che il personale è sempre meno, è vero che il comune si ha in più difficoltà. Magari che anche i cittadini per un po' di loro parte la facessero non sarebbe male. Perché essendo stato dall'altra parte so quanto è difficile seguire un po' tutto. Io sul fatto della zecca che lei l'abbia presa a casa sua, permette di sentire. Perché lei è a casa sua, per carità, può entrarci un gatto, un cane, qualsiasi cosa, ma è a casa sua. Questo è uno spazio comunale. Se io vado in un ristorante e mi prendo la salmonella, io faccio causa al ristoratore. Se prendo la salmonella a casa mia, io non faccio causa a nessuno. Questo è uno spazio... Io posso avere anche le uova delle mie galline e prendo la salmonella. Ma appunto, se vado al ristorante e prendo la salmonella, io me la prendo col ristoratore. Questo è un servizio per cui io pago caro di tasse, tutti gli anni, non io, tutta la popolazione paghiamo le tasse care al comune di Arezzo. Io questo giardino qua pretendo che sia a posto, pulito e esente da parassiti. Se in 40 anni qui non ci sono stati casi di zecche, non ci sono mai stati su questo giardino. E quest'anno per la prima volta abbiamo i cinghiali e un bambino prende la zecca. A casa mia la causa e la conseguenza è il cinghiale che è venuto dentro il giardinetto pubblico. Non è che qui è venuto il gatto e ha lasciato la zecca o come mi disse una signora del verde pubblico, i cinghiali non sanno leggere e quindi loro dove vedono il verde, dove possono rumare, vanno. Queste sono cavolate. Questo è prendere in giro la popolazione. Io personalmente non mi voglio far prendere in giro. posso avere dei strumenti per agire contro il comune e cercherò di farlo in tutti i modi. Poi ripeto, io non sto cercando né soldi né visibilità né nulla. Io chiedo solamente che il mio paese, che è Palazzo del Pero, sia tenuto in maniera decorosa. È un diritto. Questo è in maniera decorosa. Poi se io in casa mia prendo una zecca perché me la sono portata e sono andato al bosco, ma quello è un problema mio? Ma qui io non ce la devo prendere. Qui non ce la devo prendere. Io non sono d'accordo con lei. Ma ognuno ha le sue opinioni e il mondo è bello. È un po' particolare, poi lui ha fatto il politico. No, no, appunto io sono la persona più lontana da politici e voglio stargli molto lontano da politici, quindi non mi posso trovare da questo. Bravo, allontaniamoci. Sicuramente facci sapere come finisce questa cosa. Certamente, sicuramente finisce bene. Se mi interessa seguire, sicuramente finisce bene. Sicuramente per il bambino, ma anche come finisce ovviamente la parte come va avanti questa denuncia. Ci vediamo domani. Ciao.